signori è accaduto di nuovo hans nieman devasta un giocatore over 2700 punti in 21 mosse 21 mosse giocando online quindi qui si accrescono i sospetti e vedrai vedrai che la partita sarà molto strana fatta da mosse molto strane hanno uno scopo psicologico di intimidire l'avversario di far sì che l'avversario ci sottovaluti o chi lo sa a voi il giudizio io non metto becco perché vi giuro una volta penso in un modo una volta dopo penso nell'altra quindi non dico più niente andiamo a vedere hans nieman contro levon a ronjan 2759 punti e 4 c5 cavallo f3 d6 siciliana d4 cattura 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 cavallo f6 c3 c4 c5 cavallo f3 d6 siciliana d4 cattura cattura cavallo f6 c3 variante neidorf a questo punto il buon hans gioca alfiere d3 è più comune in questa posizione mettere l'alfiere in e2 e qui diciamo abbiamo la prima mossa un po' tra virgolette strana nulla di che per carità ma abbiamo la prima stranezza g6 l'idea di mettere l'alfiere in fianchetto quindi si va in un dragone f3 alfiere g7 puntando a raggi x quel cavallo che al momento non è difeso perché c'è l'alfiere davanti e l'ottava mossa di nieman è alfiere in e2 cosa dici questa mossa cosa dici questa mossa principi base dell'apertura e non muovere lo stesso pezzo più volte in apertura questa mossa veramente dello snervante infatti qui il motore da già nero in leggerissimo vantaggio chiaro il bianco ha perso due tempi con questo alfiere tra l'altro non c'erano minacce reali perché ora tocca al bianco supponiamo che il bianco faccia una mossa a qualsiasi a caso in realtà dopo un eventuale attacco di scoperta bastava anziché catture di pedone catture di alfiere e la donna protegge o se vogliamo essere più sicuri anziché fare una mossa come alfiere e2 che non sembra delle migliori puoi giocare alfiere e3 tanto l'alfiere probabilmente prima o poi andrà in e3 sviluppo in un altro pezzo quindi va benissimo e invece hans niemann decide di giocare la stranissima alfiere e2 leggero vantaggio del nero a rognone lì che dice ok dai questo adesso me lo pappo a colazione cavallo bd7 arrocco corto arrocco corto questa è già una mossa anche questa particolare ma si vede ma è particolare generalmente in questo tipo di struttura di pedoni il bianco vuole arroccare dall'altro lato perché? perché vuole sguinzagliare tutti i propri pedoni contro il futuro arrocco avversario dato che il nero ha già preparato il fianchetto probabilmente il nero arrocco era corto dunque arrocco corto b6 per mettere anche l'altro alfiere in fianchetto alfiere n3 alfiere b7 donna d2 questa è la tipica sistemazione dei pezzi del bianco l'unica stranezza diciamo che generalmente l'arrocco si fa dall'altro lato ma va bene va bene donna c7 posizione tipica della donna nella siciliana donna c7 e adesso qui qualcuno si aspetta una centralizzazione delle torri una mossa come a4 qui arriva un'altra piccola sorpresa da parte di nieman vuoi vederla? si tratta della mossa g4 arriva questo attacco che non mi sbaglio si deve chiamare attacco inglese che solitamente funziona quando hai l'arrocco lungo non quando hai l'arrocco corto che andando a attaccare con questi pedoni poi vai a scoprire il tuo re quindi bisogna sempre stare attenti a muovere i pedoni dell'arrocco e questa mossa probabilmente mette un pochettino in confusione a Ronjan che non se l'aspettava non si aspettava assolutamente una mossa di questo tipo bisognava assolutamente rispondere con h6 che non è la mossa che è stata giocata in partita dopo h6 il bianco non aveva nulla poteva provare continuare ad attaccare ma a questo punto abbiamo detto che tutte queste spinte indeboliscono l'arrocco e quindi dopo una d5 si minacciano catture sul punto e4 soprattutto entrate di donne scacco il resto di spostare e ora prima di catturare questo pedone c'è la carinissima h5 costringendo la cattura dei pedoni h e chiaramente poi andando a aprire la colonna dei pedoni g scusate e andando a aprire poi la colonna h quindi qui essenzialmente il bianco perde ma ripeto su g4 il nero non ha utilizzato una buona difesa ma ha giocato cavallo in e5 questo diciamo il primo errore di Ronjan che porta il bianco ora in serio vantaggio perché adesso arriva una mossa come g5 ovviamente questo cavallo in h5 oltre ad essere poco utile dopo f4 magari si prende anche attacchi di questo tipo quindi deve andare in d7 e ora l'idea è quella di preparare la spinta su f4 il problema è che se fai f4 subito ti arriva questa che è fastidioso e sei costretto a dare il tuo alfiere quindi b3 la parte di Neiman per tenere la casa c4 e progettare f4 a Ronjan pensa che non ci sia nulla di particolare quindi gioca e6 piccolo centro cercando di controllare case salti per il cavallo d5 e adesso arriva f4 e in partita viene giocata torre in c8 l'idea è ok tu ti rifai sul mio cavallo in e5 io mi rifaccio sul tuo cavallo c3 ho la batteria di donna e torre posso essere molto insidioso un'alternativa sicuramente era quella di giocare cavallo c6 ma vediamo che adesso sia in questa posizione che non è accaduta nella partita sia quella che è accaduta nella partita c'è una continuazione devastante a mio avviso difficilissima da vedere che il buon Neiman vede in poche mosse in partita quindi abbiamo detto che viene giocata torre c8 la continuazione anzi facciamo così ti tolgo i colori così non ti distrago e te la faccio trovare a te riesci a trovare per il bianco una mossa devastante ti lascio qualche secondino per pensarci ok l'andiamo a vedere se l'hai vista complimenti non l'avrei mai vista neanche dopo tre ore di ragionamento che è cavallo in d va in b5 un cavallo che va a kamikaze su b5 facciamolo cavallo b5 chiaramente ora si attacca la donna il punto d6 Aronian dice grazie per il regalo però ora ti arriva un altro cavallo quindi attualmente Neiman è sotto di un cavallo ma tiene conto che prima o poi se lo riprenderà molto velocemente il cavallo perché ora c'è l'attacco sulla donna quindi si guadagna un tempo ora se cade il punto d6 tra l'altro ci sarà anche poi l'attacco doppio fra torre re quindi mossa veramente insidiosa Aronian gioca donna per c2 forse andava bene anche donna c6 ma donna c2 almeno catturiamo un pedone arriva il cavallo per d6 scacco il re si deve spostare e adesso questo re inizia anche a minacciare il cavallo quindi dopo un cambio di donne io ti posso catturare il cavallo quindi f per e5 Neiman si riprende il cavallo e difende il suo cavallo che tra l'altro adesso attacca non solo la torre ma anche l'alfiere posizione drammatica e complicata allo stesso tempo arriva cavallo per e5 cercando di togliere il sostegno a questo cavallo ma ora anziché cercare mosse semplici ancora una volta Neiman cerca delle complicazioni con donna b4 fantastica protegge il cavallo e attacco di scoperta tra l'altro arriverà uno scacco doppio a breve niente donna per e2 per Aronian e attenzione arriva la combinazione da scacco matto sei pronto cavallo f5 doppio scacco ed è su questa mossa che Aronian abbandona come poteva proseguire unica probabilmente le uniche mosse buone sarebbero potute essere alfiere d7 re d7 gli arriva la donna davanti unica soluzione per il re ora si può chiudere in questo modo o se vogliamo in modo più elegante cavallo cattura g7 scacco matto dopo soli 11 minuti di gioco e in ventun mosse Hans Niemann da 2688 punti batte a Aronian di 2759 punti sono molto sorprendente molto sorprendente di vedere perdere in credo che solo erano 20 movimenti cosa succede in questo gioco? sì credo che era un gioco gioco credo che i fan hanno giocato molto gioco gioco Peter non ti suggerirebbe mai un alfiere e2 capito? anche questa cosa qui è strana no? e l'altra è sicuramente questa manovra che in realtà è difficile da vedere ma ci sono alcuni casi in cui questa manovra è anche abbastanza tipica però cazzarola è difficile e poi l'altra mossa strana in realtà è stata la spinta in g4 probabilmente una linea che si era preparato Niemann perché sappiamo che è molto bravo nella preparazione si dedica molte ore e quindi voleva stupire il nero infatti c'è riuscito infatti Aronia non ha trovato subito la difesa migliore che era H6 ma è andato col cavallo qui e da qui è iniziata la fine perché i pedoni hanno cominciato a spingere e dopo tutte queste spinte poi è arrivata la combinazione micidiale del cavallo e da qui poi la partita è stata tutta in discesa per Niemann fatevi sapere qui sotto in un commento cosa ne pensate stiamo a vedere questo giocatore ci sta sorprendendo ci sta sorprendendo con mosse devastanti e sta pian piano mettendo capo tutti i migliori giocatori di scacchi al mondo io non dico nulla ci vediamo alla prossima grazie a tutti